Era in un appartamento di via provinciale delle Brecce, margine della periferia orientale di Napoli, il Salvatore Mundi, dipinto di scuola leonardesca, trafugato due anni fa dalla Cappella Muscettola nel capoluogo Partenopeo, dove è stato ricollocato. Il quadro, che risale al XV secolo, faceva parte di una collezione custodita nel Museo Doma della Basilica di San Domenico Maggiore. Fermato per ricettazione, il proprietario dell'appartamento in cui il quadro è stato rinvenuto dagli uomini della squadra mobile, Silvio Vitagliano, 36 anni, incensurato. Il Salvatore Mundi, napoletano, richiama il più celebre dipinto omonimo al quale si ispire e del quale si erano perse le tracce negli ultimi 24 mesi. L'autore è sconosciuto, mentre è noto come arrivò a Napoli. L'ambasciatore Giovanni Antonio Muscetto, l'esponente della famiglia Partenopea e consigliere dell'imperatore Carlo V, lo acquistò durante una missione diplomatica a Milano. La città era nota per la sua solida scuola leonardesca, che cercava di riprodurre lo stile di Da Vinci. Con ogni probabilità fu proprio a Milano che Muscetto la lo vide e lo acquistò. L'opera è rimasta esposta, fino alla sua scomparsa, all'interno del complesso monumentale di San Domenico Maggiore, dove riprenderà il suo posto nella sala degli arredi sacri. In prima linea, nelle indagini della Polizia di Stato, il capo della mobile, Alfredo Fabrocini. È stata un'attività estremamente complessa. Quello che per noi è di grande soddisfazione aver restituito un bene di così grande importanza alla città di Napoli, così da renderlo forse ancora più famoso di quanto non lo fosse in precedenza. È allo stesso tempo di aver risolto un caso prima ancora che si creasse, perché il quadro è stato ritrovato, ma il custode del quadro non sapeva che gli fosse stato sottratto. Grazie.